Ciao bambini bentornati nel nostro mondo di Masterchef Benvenuti nella mia cucina Vi ricordate che nello scorso video avevamo aperto Il frullatore, la frutta elettrica Guardate che si svita anche da sola Ah questo non ve l'avevo detto in un altro video E la nostra tostapane Con tanto di pane Che casino Adesso bambini Apriremo, vi ricordate? La scatola contenente Il fornello e tante buone cose da mangiare E poi apriremo La scatola più piccola Con un sacco di pentole, piatti E uno squisito dondo Che dite? Iniziamo ad aprirli? Cominciamo con quello più grande No con quello più piccolo prima La collezione Masterchef E' un'esclusiva di Brav Gocchi Sembra di stare veramente Nel programma tv E voi volete diventare piccoli cuochi? Ah li hanno tirato fuori tutto quanto Molto facile da aprire Guardate, scatola molto semplice Ah una copertura in plastica Fino di scotch No Che poco scotch Vediamo fuori Guardate qua Sembrano proprio quelle vere Sono anche rivestite E in tutte c'è il marchio Masterchef Vedete? Abbiamo un dog Abbiamo tantissime cose bambini Poi abbiamo le posate Masterchef Guardate Una Due E tre Mi sento veramente una piccola cuoca Mi manca il cappello Poi Abbiamo Una super Pentola per friggere Ha un nome specifico Me lo scrivete qua sotto? Oh ecco Il pezzo forte Il pezzo forte Una padella Tipo quella di Rapunzel Pum Picchiamo I malcapitate di turno No Non fatelo Infine L'ingrediente principale Di ogni piatto Che si rispetti Il sale Vedete? È veramente carino Però non abbondate Mi raccomando Prima scatola Aperta Procediamo con la seconda Ok Eccola qua È stupendiosa Ho iniettato una nuova parola Stupendiosa Guardate Ora la abbiamo Molto facile Lo leviamo qui Tiriamo qua Bambini E Là Vedete? Tiriamo fuori anche questo Oh Abbiamo La prima pentola Col marchio enorme Masterchef Che carino Poi abbiamo Il fornello Vedete? Guardate che bello Con le manopole Con un fornello vero Poi Abbiamo Pentole Cucchiaone Mi sembra quello per il gelato Buono il gelato E abbiamo Grusso e l'uovo La padella Per cuoterle Facciamo una colazione All'americana Poi abbiamo Un'altra pentolina Vedete? Con il suo copertino E infine Coltello E tagliere Che in questo caso Possiamo usare anche noi bambini Io sono una bambina Ecco Questa E' la collezione Che dite? Cosa cuciniamo? Vi sistema tutto Ecco qui Oh Sono veramente Una piccola chef Che dite? Mi canito Masterchef? Però Mi dovete suggerire Una ricetta da preparare Prima faccio le prove con voi Quindi mi raccomando Scrivete qua sotto Che cosa posso cucinare Con tutte queste belle cose Hai visto quante belle cose? Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao